La sfida che ci aspetta in Israele è tra le più complicate di questo girone di ritorno della Champions League. Intanto perché dobbiamo portarci il ricordo dell'andata, una partita rocambolesca terminata poi con la nostra vittoria di 7 punti dopo 2 supplementari, però contro una formazione che ha un infinito talento soprattutto nei piccoli. Ricordiamo che Walden, Jones e Wyatt segnarono moltissimo soprattutto dalla distanza. Questa è la prima attenzione che dobbiamo mettere dal punto di vista tattico alla partita. Per farlo abbiamo bisogno di energia, è chiaro che andiamo anche in un campo molto caldo, quindi sarà importante per noi l'impatto sulla partita in un momento non facile dal punto di vista fisico e delle risorse da parte della nostra formazione, quindi dovremo appellarci evidentemente anche al cuore, all'orgoglio e alla capacità di stare dentro la gara, non lasciandoci condizionare da quello che può essere il risultato o il break di un momento. Poi evidentemente dovremo magari sotto canestro avere un minimo più di consistenza perché lì possiamo giocarci magari delle carte a favore.